Ciao a tutti ragazzi, io sono Magicolo e il gioco di oggi è ARG, un gioco di combattimento video diffuso nel 1987, in cui il giocatore controlla un mostro gigante, un orco o una lucertola, con l'obiettivo di schiacciare e distruggere tutto ciò che incontra in diversi paesi e periodi della storia. L'obiettivo è di trovare 5 uova di rock, nascosti tra il paesaggio distrutto. Una volta che un uovo viene scoperto, i due mostri lottano per il possesso dell'uovo in uno scontro uno contro uno. Quando vengono trovati 5 uova, i mostri si dirigono verso il vulcano, lavorando il loro modo per aggirare le colate di lava, per raggiungere la cima e rivendicare l'uovo d'oro per la vittoria finale. Il gioco è ispirato al gioco di Rampage ed è stato progettato per Arcadia Systems Mastertronic, una macchina arcade basata soprattutto sulla hardware custom di Amiga, rendendo la sua eventuale conversione in quella macchina relativamente semplice. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti